per coniugare l'imperfetto congiuntivo attivo e passivo di leggo leggere della terza coniugazione basterà applicare la stessa regola operativa all'infinito presente aggiungeremo le desinenze personali attive e passive avremo quindi leggere che io leggessi ma come detto prima anche il condizionale presente io leggerei leggeres che tu leggessi leggeret che egli leggesse leggeremus che noi leggessimo leggeretis che voi leggeste leggerent che essi leggessero il passivo leggerer che io fossi letto ma anche io sarei letto al condizionale leggereris che tu fossi letto leggeretur che egli fosse letto leggeremur che noi fossimo letti leggeremini che voi foste letti leggerentur che essi fossero letti ripetiamo la stessa operazione per audio audire della quarta coniugazione all'infinito presente aggiungiamo le desinenze personali attive e passive otteniamo quindi audirem che io udissi ma anche io udirei al condizionale presente audires che tu udissi audiret che egli udisse audiremus che noi udissimo audiretis che voi udiste audirent che essi udissero il passivo audire che io fossi udito ma anche io sarei udito audiretis che tu fosti udito audiretur che egli fosse udito audiremur che noi fossimo uditi audiremini che voi foste uditi audirentur che essi fossero uditi